solo di avvicinarvi qua adesso c'è un po il riflesso del sole no ci mettiamo così perché facciamo una breve introduzione di 5 minuti dove vi faccio vedere vi spiego un attimino un po durante la settimana su cosa lavoriamo è chiaro che lavoriamo sulla tecnica individuale cioè dopo la video analisi che però non sarà una video analisi classica con una palla semplicemente lanciata standard ok e voi eseguite il movimento sempre alla stessa altezza no la video analisi verrà fatta cercando di mandare la palla nella zona vedete fra le due fasce quindi una zona di sicurezza se siete interessati alla mia attività o a partecipare a un mio stage di tennis vedete comparire le schede qui in alto a destra sopra il video o nella descrizione del video trovate tutte le info potete anche contattarmi via mail se avete qualche domanda da farmi o da pormi alla prossima roberta a fondo campo che si chiama zona di costruzione quindi voi da questa zona del campo regia se vuoi far vedere bene la zona di costruzione e la palla dovrà essere mandata nella zona blu quindi vi metterò anche le zone quindi diventa molto difficile poi faremo passare la palla più alta ok e giocheremo un po più indietro quando ve la do alta voi dovrete giocare alta ok palla di difesa ok quindi da quando andate indietro perdete campo giocate una palla alta va bene poi farò giocare da dentro al campo va bene e a quel punto dovrete giocare qua un colpo più rischioso d'attacco va bene però devo fare ecco l'attacco lo faccio lungo linea tutti gli altri colpi li fatti in diagonale quindi zona di costruzione incrociato incrociato la difesa e lungo linea solo l'attacco la palla d'attacco va bene attenzione dalla zona blu abbiamo detto negli angoli però senza prendere rischi dalla zona rossa possiamo giocare alto centrale oppure negli angoli ma dobbiamo essere certi e dobbiamo essere dobbiamo essere ben piazzati zona da pressione attacco ecco che gli angoli sono un pochino più stretti non giochiamo in fondo ma quando giochiamo nella zona di pressione attacco giochiamo qua soprattutto le diagonali in modo che escano più verso l'esterno i nostri colpi se ci riusciamo noi in questa settimana cerchiamo di migliorare con tanti esercizi che faremo con me con giacomo tutte queste queste situazioni lo facciamo aggiustando anche la tecnica se non ci riuscite nelle varie situazioni andiamo a vedere perché e proviamo a capire quindi è una tecnica sempre ottimizzata deve essere ottimizzata alla situazione precisa non è la tecnica nel tennis non è mai standard cioè il colpo giocato da fondo campo su una palla a questa altezza non è uguale a un colpo giocato da dentro al campo su una palla alta quindi andremo a vedere vi andremo a spiegare durante la settimana cioè cerchiamo di migliorare il nostro tennis cercando di capire il gioco del tennis ok non accontentiamoci di mandare la palla dall'altra parte del campo e basta cioè solamente dall'altra parte senza ok senza diciamo così una un senso giusto è una soluzione che noi abbiamo deciso prima no tattica va bene ci proviamo tattica cerchiamo di ogni volta che colpiamo la palla ragionare un attimo cioè giocare nella zona giusta ragionare non abbiamo tanto tempo per pensare sono poi automatismi ok però se li alleniamo durante le situazioni di gioco è più normale naturale che ci vengano istintive ok non c'è adesso pensare è anche sbagliato dire pensare a dove mandare la palla si gioca in automatico da certe zone del campo quindi se le alleno queste situazioni è più è più facile che io riproduca quella situazione in partita se io non riconosco una situazione cioè non so giocare la palla da qua da questa posizione del campo che è di chiusura se la palla rimbalza ok se non so che devo entrare col piatto leggermente inclinato non mi alleno su questo arriverò qui lascio scendere la palla la colpisco da sotto e la palla mi scappa fuori ho fatto un esempio no? siete d'accordo? e proviamo ad allenare queste situazioni con me e con Giacomo ieri abbiamo usato le palle colorate le usiamo anche oggi nella video analisi non è così semplice non arrivano nella video analisi tutte palle tutte palle gialle se arriva gialla e qui arriva il difficile e qui visual training e cognitivo l'allenamento se arriva gialla la dovete mandare qua velocità di reazione e di decisione quindi anticipazione motoria visione periferica visione anche dell'altezza cercate di immaginare di giocare sempre un po' alto sopra la rete questa zona qua un po' pericolosa stiamo qua qua la palla gialla quando arriva verde è una palla verde vuol dire sicuro no? quando c'è il semaforo passo faccio passare la palla alta rossa attenzione mi devo fermare al semaforo pericolo qua non mi fermo ma cerco questa zona qui che è più pericolosa va bene i colori li vedete tutti da lontano perché mi capita ogni tanto che c'è qualcuno che non riconosce i colori verde giallo ogni tanto verde giallo vabbè dai tanto sei in sicurezza l'importante è che non sbagli con il rosso ma l'esame della patente mi ha detto ma però lei ah vedi vedi è pericoloso verde giallo se confondi il rosso e il verde infatti non puoi guidare ah si eh non posso non guidare perché ho andretti attenzione abbiamo chiaro questo? per fare questo ne abbiamo parlato ieri per giocare una palla a questa altezza o anche più su bisogna sapere dare un po' di rotazione sia di dritto che di rovescio quello che cercheremo di migliorare in top spin altrimenti farei una palla senza peso una palla lenta queste altezze sempre considerando di colpire in top spin va bene? andiamo in campo adesso allora dividiamo come abbiamo detto e poi qui iniziamo subito dopo il riscaldamento a fare la video analisi video analisi si intende che dopo il video che vi ho fatto verrete con me in cabina di regia guardiamo le cose che si possono migliorare e proviamo subito in campo va bene?